pace e bene cari amici ben trovati in questa ventiduesima domenica meritiamo sul testo meraviglioso ma come d'altronde tutto il vangelo che è quello di luca 14 versetto 1 e poi 7 14 dove Gesù ci dà due splendidi insegnamenti il primo che ci aiuta e ci mette in guardia dalla corsa alle poltrone nella comunità cristiana e due a vivere un amore includente ecco entriamo nel testo perché abbiamo veramente delle chiavi meravigliose per vivere una vita più libera e felice siamo di sabato Gesù si reca a casa di uno dei capi dei farisei per pranzare la bellezza quindi del signore che si lascia accogliere va incontro a tutti ed essi lo osservavano un po incuriositi vediamo che combina questo questo maestro Gesù guardandoli vedendo che c'era una corsa ai primi posti micidiale racconta una parabola qual è il problema che i posti erano come spesso accade anche oggi riservati quindi c'era il posto del padrone di casa che a volte veniva ceduto un ospite illustre quindi via via a seconda dell'importanza gli ospiti qui c'è una corsa alle poltrone perché perché più vicino sono più significa che sono importante più mi metto in mostra più gli altri mi considerano ma questo lo faccio di scapito degli altri allora Gesù vedendo tutta questa questa corsa micidiale racconta questa parabola dice quando sei invitato a nozze non metterti al primo posto perché se c'è un invitato più degno di te il padrone di casa ti dovrà dire cedigli il posto e ci fai una figuraccia mettiti all'ultimo invece così casomai verrà a dirti vieni avanti e ne avrai onore davanti a tutti di per sé questo detto che sembrerebbe tra l'altro di galateo conviviale era già conosciuto nell'antico testamento e precisamente nel libro dei proverbi 25 6 sta scritto non vantarti davanti al re e non metterti al posto dei grandi perché è meglio sentirsi dire sali quassù piuttosto che essere umiliato davanti a un superiore però se la comunità cristiana l'ha conservato e luca ce lo ha trasmesso alla luce della vita del signore è perché c'è qualcosa di più infatti gesù racconta una parabola che è ambientata ad un banchetto e il banchetto un'icona proprio del regno di dio non soltanto il banchetto escatologico quindi nei cieli è un'immagine per dire la comunione piena che vivremo con dio il sedere a mensa con abramo e via dicendo ma è un'icona di come anche vivere qui la vita diciamo così in semplicità nella comunità cristiana ma quindi la vita poi di ogni giorno allora qual è il punto che gesù qui partendo da un episodio di vita quotidiana ci vuole mettere in guardia dalla ricerca sfrenata dei primi posti dai desideri smaniosi di grandezza che diventano volontà di primeggiare sugli altri di ritenersi superiori più meritevoli e giusti quella corsa micidiale alla poltrono alla carriera che purtroppo smangia ancora oggi tanti credenti tanti cristiani di tutti i tipi di tutti i ruoli purtroppo a volte anche noi sacerdoti facciamo veramente salamalecchi e corse all'incarico puntiamo i piedi se la parrocchia non è sufficientemente numerosa se non abbiamo l'incarico ce la prendiamo a male non partecipiamo neanche agli incontri col vescovo insomma di tutto e di più la caccia alle poltrone quasi che quel ruolo ci dia valore ci faccia sentire realizzati ma questo pure tra i laici la corsa a mettersi in mostra davanti al parroco attaccarsi al proprio incarico in parrocchia tipo cane con l'osso e finiamo per fare come quei bambini vi racconto una storiella così in semplicità c'erano due bambini che giocavano allora il primo dice all'altro giochiamo a dire messa allora dice all'amico io faccio il prete e tu il chirichetto e l'amico beh aspetta aspetta se tu fai il prete io faccio il vescovo e l'altro ah sì se tu fai il vescovo io faccio il cardinale ah gli dice l'altro se tu fai il cardinale io faccio il papa e se tu fai il papa dice l'altro io faccio dio ecco a volte finiamo per vivere questa battaglia dei poveri detto in senso lato allora il signore ci apre gli occhi e parlandoci di un banchetto con tanti invitati ci aiuta a sentirci tutti invitati a scoprire che tutti siamo gratuitamente invitati e resi partecipi di qualcosa di immenso a cominciare dal dono della vita e poi dio che condivide la sua vita che si dona a noi come come cibo pensiamo al banchetto dell'eucaristia siamo tutti dei direbbe papa francesco dei misericordiati e non per i nostri meriti che nessuno può accampare niente davanti a ma per grazia per amore suo allora come possiamo arrogarci il diritto di sentirci meglio dell'uno dell'altro ecco perché il signore dice chiunque si esalta sarà umiliato e viceversa santa teresina di visie diceva quando in cielo si aprirà il libro della vita a quante sorprese chi pensavamo grande lo troveremo piccole chi è stato sconosciuto e nascosto sarà un grande santo il signore dunque ci invita a prendere l'ultimo posto in un certo senso che tra l'altro è il posto che ha già occupato lui nel suo farsi uomo gesù nell'ultima cena infatti cosa ha detto i suoi discepoli ha detto i re delle nazioni le governano e hanno potere su di esse voi però non fate così ma chi tra voi più grande diventi come il più giovane e chi governa come colui che serve infatti chi è più grande chi sta a tavola o chi serve non è forse colui che sta a tavola eppure io sto in mezzo a voi come colui che serve char de foco diceva l'ultimo posto già l'ha occupato gesù noi al massimo possiamo occupare il penultimo ora qui qual è il punto perché avete uno parlando di ultimo posto di servizio potrebbe ridurre la cosa un po in maniera spiritualista un po così po aerea il signore sa bene che abbiamo desideri di grandezza di cielo di santità ma lui viene a orientarli nel giusto verso infatti dice chi vuole essere grande si faccia ultimo e servo di tutti cioè la vera grandezza non sta nel mettersi sopra gli altri ma nel mettersi a servizio degli altri quindi il punto non è che io non mi debba realizzare nella vita che non possa anche ricoprire incarichi diciamo importanti o essere una persona che è anche conosciuta o un professionista serio il punto è se io tutto ciò lo vivo riducendo il mio valore a ciò che faccio o se lo vivo come spadroneggiamento sugli altri o se lo vivo a servizio degli altri qui è il grande problema e qui è la grande tra l'altro realizzazione e felicità dell'uomo cioè imparare a vivere nell'umiltà chi è la persona umile è quella che sta con gli occhi verso terra che si frusta e se ne dice di tutti i colori no è la persona potremmo dire che sa chi è davanti a dio è la persona consapevole dei suoi limiti e per questi non cade in depressione e la persona consapevole anche dei suoi pregi e di questi rendelo da dio ma ne si scoraggia per gli uni né si insupervisce per gli altri perché sa di essere ben piccolo davanti all'onnipotente allora vogliamo chiedere al signore che ci aiuti a vivere a esercitarci nell'umiltà e a fare attenzione alla falsa umiltà perché qui san francesco di sales c'è maestro e diceva spesso diciamo che non siamo nulla anzi che siamo la miseria in persona la spazzatura del mondo ma resteremo molto male se ci prendessero la lettera e se ci considerassero in pubblico secondo quanto diciamo ma è proprio il contrario fingiamo di fuggire di nasconderci solo perché ci inseguono e ci cerchino dimostriamo di voler essere gli ultimi seduti proprio all'ultimo angolino della tavola ma solo per passare con grande onore a capotavola vedete l'umiltà vera non finge di essere umile e fa fatica persino a dire parole di umiltà evitiamo tra l'altro di dirle se non siamo disposti a viverle per davvero allora vedete c'è qui una meravigliosa esortazione in un certo senso l'umiltà vera profonda autentica quindi no a una caccia assurda ai primi posti a discapito degli altri un grande no alla superbia che ci porta ad allontanarci da dio e a gonfiarci come i palloni con rischio di far la fine della rana della favola di la fontaine che per essere come il bue ingoiò talmente tanta aria che alla fine scoppiò la seconda parabola mi soffermo meno ma non perché meno importante invece sullo stile da vivere nelle relazioni con gli altri quando inviti dice gesù non invitare solo amici parenti conoscenti persone che possano darti il contraccambio al contrario quando offri un banchetto invita poveri storpi sopi cechi tra l'altro gli ultimi tre erano pure considerati impuri e marginati anche dal tempio dalla comunità credente dell'antico testamento e sarai beato perché non hanno da ricambiarti ricevere la tua ricompensa quando alla risurrezione dei giusti qual è qui l'invito del signore è quello a uscire da una logica del dare per ricevere dal curare solo il proprio orticello e far sentire di casa gli ultimi i poveri ecco perché un bravo biblista diceva silvano fausti non limitiamoci all'interno di un amore interessato di una concezione chiusa della vita oggi io do a te domani tu dai a me e i poveri restano sempre fuori e gli esclusi sono sempre esclusi il vangelo ci chiama una fraternità con due caratteristiche molto chiare la gratuità e l'universalità si dà anche a coloro dei quali non si può sperare nulla in cambio qui gesù pensa anche alla futura comunità la sogna come luogo di ospitalità per tutti gli esclusi e invitare a pranzo non è solo un gesto di elemosina ma inserire i poveri nel giro delle proprie amicizie vogliamo allora veramente interrogarci se questo no alla corsa i primi posti e questo sì ad accogliere gli ultimi sono uno stile di vita che anzitutto viviamo noi io tu e seconda cosa se questo è lo stile che viviamo nelle nostre comunità e se qualora così non fosse bene preghiamo e diamoci da fare perché le nostre comunità possano essere davvero come gesù le ha sognate e che alla fine è come ognuno di noi è chiamato a vivere sì da essere felice pace e bene e buon cammino a tutti